OUELA CHAPELLE Oggi proveremo nuovamente a rifare il nostro viaggio con l'auto in THIS FANTASTIC GAME SONO VOLATO Vai mettiamo si fa il morse de struck E E E E E OIOI OIOI Guarda qua dietro Nooo sei smontato Metti ruote normali, ruote normali voglio Si zoom, c'è una casa UNA DINAMITE! UNA DINAMITE! Nooo, allontano Giorno 1 I miei amici sono esplosi Ho un dentificio al cetriolo Non ho paura di metterli in macchina Si, 3 yard, si, 3 yard Ragazzi 3 yardiamo In un minuto bisogna farla Non sei andato a prendere Michael come prima cosa, vero? Michael Michael ce l'abbiamo, perfetto Autopulita Ruote, cofani, prendete tutto Voglio vedere cosa c'è nel cammino Magari trova adesso un easter egg segretissimo a provare No, non c'è niente, scrittavo La televisione che fai non te la porti Cacchio, hai ragione Tira dietro Perfetta Così uno si chiede e se la guarda pure Porca troia Ok ragazzi, ce l'abbiamo la macchina Oh, metti il vinganto che ti imbruttisce Ti manca la portiera Ma vabbè, possiamo andare? No, manca poi, aspetta, aspetta Accendiamo R imbecille Eh, R Ecco il tasto Vai Ovedeo, finalmente Ragazzi c'è qualcosa che lo blocca Spenci, spenci, R, R, spenci, 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 veloci, veloci, spenci C'è il robot destra Lasse, lasse Perché c'è una porta qua? Lasse Perché c'è una ruota? No, la porta Vai 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 Non va Va, 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 venite, venite Era la tv messa di ferda Ok Vai Va bene, va bene Inizia qua La nostra avventura Ragazzi avete messo il tipo? Se l'ho mangiato Come? Oh, era una mela che volava nel cielo E mi è partito la dipendenza che c'ha Come Luke su Death Note La mela che vuole Visto è bello il cagnolino messo così E io tericamente posso sabotarti Posso alzare il freno No, non alzare il freno Lì c'è cibo Oh, cosa c'è lì? C'è un capannone Fermo Ma fermo C'è gli zombie, però Prendi tutto è tornato C'è la benzina Venga la benzina, ci stiamo Vieni la benzina, ci stiamo Vieni ma io 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 Fermati fermati Ma che cazzo fai? Quella è una gran casa Cioè abbiamo pochissima benzina Lo vedo io da qua Ora escono 50 minuti Aspetta aspetta non entrate Con calma con calma Teniamo le distanze Teniamo le distanze anche Tedro Teniamo le distanze Aspetta guardiamo quanta benzina E ce la rimetterla Aspetta se questo è diesel siamo fottuti E' diesel C'è da trovare gas Così non mi vede Mi ha visto Pizza L'ho mangiata L'ho mangiata io Io dove è verde Io dove è verde Io dove è tutto verde Cosa mi combina I zombie Arrivano la notte No ragazzi non credo che questa sia la notte Questa E' l'eclissi E' l'eclissi rientra No bistole Sono morto Sono resi anch'io Niente in macchina Rientri in macchina Vai troll Vai 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 Aspetta non c'è uno che mi campero davanti al robo Aprimi la portiera Aprimi la portiera Ti sono ragazzi Ma bistro è tornato Monta 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 ok chiudere portiere siamo tutti i verdi visto c'è la macchina non la benzina non c'è ok ragazzi proviamo a fare un miracolo vediamo se il diesel funzionerà ragazzi dove l'avete messo il diesel stava tornando indietro con calma qua distratti c'è il lordo dietro di te l'hai rotto uno distraiteli 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 mi sono fatti mangiare non ho fatti mangiare veramente scappa scappa si va entro in macchina andrò l'entrò in macchina a te stai pronto ok stai pronto per partire segnala la macchina almeno non so accende scendi scendi provo io provo io scendi 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 no col di poco con il diesel non funziona no se non vuole proprio è come nella vitale non vuole funzionare c'ho tornato da me c'ho tornato dopo il contatto ragazzi sto per volare con l'auto sto per volare ciao bro come stai stiamo per volare sono morto no ero era avvelenato radioattivo era diventato verde ma ammazzato la tempesta avevo fame ero stanco danneggiato dagli zombie provato si può curare la macchina si rifà da capo un retorno to lobby ci dobbiamo provare una terza volta in questa è la run seria metti tutto o l'auto blu pure bella auto blu non provare cpu visto che ragazzi ho scoperto perché cascava in realtà la benza quando c'era la fisica e la macchina impennata perché qualcuno di nome visto lasciava il tappo della benzina aperto ma io sì e questa è una cosa che fa kevin non lo fa troll il fu e non l'avete messo madonna santa io ho detto vado a vedere e venite tutti poi ora lontanatevi siamo usciti all'ammazzo sai cosa però possiamo provare a fare io lo metto lo stesso dentro il vuoto perché magari se arriviamo in una stazione si riempie caricare attaccialo attaccialo no no che cazzo è volato via non metchiamo questa roccia ma sempre il troll deve guidare vada a piedi ti giuro vado a piedi paratro ricordati ogni secondo che lasci la macchina accesa si consuma il gasolio ecco perché ti dicevo veloce di spenderlo capito proprio ogni secondo e non ogni minuto ogni secondo che quella torre mi voglio fermare investilo non mi è stata gas gas lo mettiamo su una pistola spara questo è da prendere ma perché ti accendi le luci vabbè consumi la batteria è ammazza il boss no no questo è distratto è salibonino quindi tengo i colpi molto che sto parlando di fame è morto è morto è morto è morto è morto veloce che c'è il main sunshine vai 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 perché non c'è più cibo perché non c'è più cibo no lo hai scoperto non mangia allora lì c'è una stazione del bus perché si è spento l'auto come appunto è come se ne hanno ancora accorto stavola che è molto poco come si era la pezzi era metteria la zucca la droga questo esplode ragazzi esplode il cofano il cofano fa fumo controlla controlla che è successo la pistola ce l'abbiamo ancora ragazzi che ti levati dalle palle non c'è più una pistola ci sono tre zombie davanti sarà scaldato ragazzi era scaldato ora ora funziona ora funziona ok si riparte lì non c'è niente interessante i zombie accendi 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 perché il corpo è aperto era finito dell'olio anche nel radiatore è un mercatino quello per forza un mercatino frena frena inizia a frenare ci stanno saltando i zombie ci penso io voi state fermi mi stiamo ristraendo ma io stai ricipola tutto un'ascia a un'ascia o saccaglialo saccaglialo ma che cazzo state facendo questo è l'olio non scendere dalla macchina è sceso perché sei sceso rientra no dobbiamo portare la macchina più vicino al rapporto io chill chill ecclesi accendi i fari allora sono morto ti ho aperto hai perso il carburante non era carburante era acqua ci serviva per il radiatore che sono piglia fuoco il motore sono indietro no vai avanti si va avanti non sai guidare non capisci una sega non hai ancora capito come riparare il motore in caso di guasto siete il meccanico non ti sai muovere non sai come ci stile gli zombie ho detto che scendo io sei sceso pure te e te adesso ti aspettavi che kevin avesse due di più per capire che non doveva scendere dalla macchina secondo te e buongiorno rapi spara lì per rimanere la mira no ho visto o mio dio questo è una miniera d'oro no c'è cibo c'è cibo spara lì spara lì è un po' è un po' ok con calma allora c'è cibo c'è cibo c'è mangia 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 qui c'è di tutto dovevo prenderlo in mano ma sei imbecillo no ho sbagliato tasto volevo spostarlo non c'è tanto gasolio droll questo non ci basta neanche per arrivare alla prossima stazione bene possiamo partire dobbiamo arrivare però a trovare altro altro gas e qua non ce n'è che cos'è no non ce n'è non ce n'è acqua cioè c'è di tutto ma qua c'è un botto d'acqua non api ok poi ho provato a fare un test ho provato a mettere più di un liquido dentro ho scoperto come levarlo in caso che metti diesel o qualcosa che non andava andiamo e guido io ora vai 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 casa ma porto a destra cosa c'è a destra una casa deja vu sei ucciso no l'auto perché è successo perché è sotto sotto no è sceso no no ma che cazzo attento 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 ma come è potuto succedere ragazzi c'è un lanciamissili no c'è un lanciamissili ok troppo a ribattare fanno ribattare guarda 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 qua che maes no ma l'altra passa no ci pensi 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 prendi tutto prendi tutto ok ho trovato il motore ho trovato il motore è ancora intatto è ancora intatto meno male avevamo preso l'acqua vai a prendere le ruote fatti utile dove sono ho una ruota messa un'altra era qui nella strada avevo riparato la macchina siamo troppo fu amo ok tra lo siamo pronti si riparte sì non ci sarà anche il copo fanno ci crede esplosio una bomba era però prena è tutto distrutto qua non ci interessa magari c'è qualcosa allora prima di tutto c'è uno zombie non ho preso il zucca ora dinamite apri la porta e poi la richiudi aspetta come si lascia boooom oh mio dio ho una capa, ho paura di farla oh capo che hanno sprecato i colpi e poi il buono gas e olio bene vado a rifornire subito il gas e poi si può prendere l'olio e si va a controllare anche il livello d'olio del motore lo sa quanto cassa abbiamo droll? 16 litri poi c'è altra roba interessante questa acqua la pistola va presa assolutamente non scordiamocene quando sei pronto possiamo in realtà partire anche aspetta mette per bene queste cose così non cadono va vai andiamo 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 ehm visto che funziona ancora c'è qualcosa che non cosa che succede? no aspetta una portiera andiamo no no l'ho visto non è fatta ce l'ho ancora in mano aspetta oh 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 drone siamo quasi a 3.000 eh obiettivo 10.000 ok te fai tutto io intanto prendo la k47 oh ora mi diverto aprimi la porta e non dovevo fare le mie cose no no prima mi apri la porta vabbè 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 libero libero ok free 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 inside si mette dentro ma cosa c'era qua dentro? nulla nient'altro però sai cosa c'era? abbiamo fatto un po' di cassa ok nel prossimo nella prossima mezz'ora devo trovare del cibo però qua e rallenta inizia a rallentare ora bene c'è una k sai cosa fare vai come dio li stai missando tutti qua non si spreca neanche una munizione c'è qualcun altro dentro no ho sprecato 5 non muore no ok lascia stare finchè non ci attacca oh che miseria drollo oh ma qua guarda facciamo tanto eh ora cerchiamo di perdere poco tempo perchè alla fine abbiamo già trovato quella lì non c'è tanta altra roba sì ma vorrei anche guardato quel vaso vedete se c'è qualcos'altro direi di no parti se hai cibo urgente basta per morire? no però c'ho meno di metà ho una k chi c'è che mi minaccia allora aspetta guardiamo prima la situazione sono in due una è appena alla porta l'altra è un poco più dentro morto uno l'altra è a destra venite edge a te ok è forzato è morto è morto è morto non c'è nulla ma andiamo avanti allora 3 2 1 ace tipo chi lo mangia questo panino? mangia te allora sei lo streamer sono lo streamer ah no niente c'è una banana ma io non capisco perchè non parti non parti mi sa che mi sa che c'ha troppo peso tipo prova a te ah lui va va bene dovevo guidare io capito siamo quasi a 5000 mmm oh non sbannare oh ma droll guida bene io guido anche in vita reale che vuoi? addirittura calma guardo io prima non c'è nessuno pulito completamente nessuno nei due oggetti non c'è nessuno non c'è nessuno andiamo 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 non perdiamo tempo non c'è nulla non c'è nulla perchè perchè la k guarda mezzo di noi ho paura ho paura ora anche in vita reale che mi arrivi un colpo virtuale in che senso? nel senso di che senso? ah il bug è riempito il ponte il ponte 5000 metri attenta 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 il bridge è collapsed dato c'è l'auto che va nero non hai messo la mano gasolio 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 mettiamolo 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 attenti a non cadere ok io controllo bene il ponte eh ma dobbiamo correre dobbiamo correre perchè sono sicuro di fame ti vieni con l'auto no aspetta sto mettendo il gas ci serve gas ah quella casa del coltore del ponte ci deve per forza essere cibo non possiamo essere così sfigate a non trovare il cibo anche l'ora felice oh visto che ti stai andando avanti cioè mi dava accoggiere qualcosa di questo ponte che cade da qualche parte si c'è un punto pericoloso vai 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 più a tu a sinistra ok bene bene fai piano 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 leggermente a destra destra ok ora qua è free aspetta me vai 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 chill no no fredda a mano fredda a mano aspettami però ma non hai controllato più avanti non ho controllato più avanti no aspettami iota ma chi ma t'ho visto volare son morto no no ma come si passava qua no cioè qua dovevi fare la super rincorsa in quella casa ci sarà sicuramente qualcosa che mi aiuterà a riprendere l'auto drol perchè non è controllato mi sono andato dritto t'ho detto va beh può passare così prima di abbandonare devo riuscire a salvare l'auto ok si va qua ahhhh 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 no ahhhh 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 ho sventito un'auto incredibile ahhhh 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 ahhh ahhhh